E questo video comincia così ragazzi, dove ci troviamo? Ci troviamo nella mia dimora, nella casata Suris Stiamo approfittando del momento pasquale per mangiare una fetta di colomba farcita Sono le 6.40 abbiamo l'appuntamento con Bot e Gigi alle 17 in sala Quindi noi ci trastuttiamo con del panettone, del panettone No, è una colomba farcita È permesso? Siamo in macchina di Manu e stiamo andando in sala tutti insieme Che bello, Sergio saluta Ciao Tutti insieme appassionatamente C'è solo Bot ad aspettarti in sala perché Gigi ci raggiunge in loco Stasera siamo a Sia Maggiore e Sergio mi fa dei vlog da dietro Ciao amico, siamo arrivati in sala, ciao amico Bot parla della sua influenza però noi intanto carichiamo Stiamo partendo Basta video del viaggio adesso arriviamo direttamente a Sia Maggiore No dai farne altri No, tappo e Sia Maggiore Non tappare Ed eccoci qua Lo so che avevo detto che non avrei ripreso più la strada Invece era molto bella Quindi ecco un pezzettino della strada Poi è molto bello perché c'è stato un incontro casuale con il nostro amico Bassista Adesso vi faccio vedere più o meno come siamo combinati Quello è il palco Adesso andremo a scaricare Ciao amico Vediamo BOT alla batteria senza cassa BOT ci spieghi perché non hai il pedale Sta arrivando, è nella bicicletta il pedale, lo leveranno Vediamo Gigi Sancho Stai facendo un soundcheck Soundcheck, si dicono che si chiama così Qui ho composto il mio pezzo che fa un po' così Effettuare il soundcheck La vita del musicista è anche effettuare dei soundcheck delle volte Quindi ci vediamo dopo amici Per spiegarlo un po' meglio Non abbiamo il pedale della cassa Ciò posticiperà praticamente il nostro soundcheck definitivo Il nostro amico BOT ha il pedale Finalmente Ragazzi c'è molto freddo Infatti adesso vado a mettermi un altro amico Mi picchia BOT io lo ammazzo Stiamo cominciando Stiamo per iniziare ragazzi È arrivato Gigi Sergio è alla tua destra Mentre BOT è al censo Cose bellissime Gigi fa estrazioni Attenzione Questo è il primo premio Ah quanto è dall'ultimo No ragazzi Dice Cinzia mi ha detto così Finimmo Ti stanno chiamando Bene abbiamo appena terminato Bellissima serata Con l'amifissia maggiore Ciao Ciao amici Ciao amici Ciao amico Ciao Ciao Qua stiamo smontando Io ho smontato tutto Ci armiamo di coraggio E carichiamo la macchina E ce ne andiamo a Cagliari Giusto Giustamente Giustamente Presentati Ciao son Marco Salutate ciao Ciao amici Ciao Ciao amici Ciao amici Ciao amici